Ridare vita a un impianto dove hanno dato calci al pallone tanti spoletini, riqualificare un'area ripartendo dai più piccoli ma con la possibilità di allenarsi anche per i più grandi, riflettori accesi sul nuovo impianto di San Nicolò, i parioli di Spoleto come li ha definiti qualcuno. Il presidente del SD Spoleto, Vittorio Montesi, ha voluto mostrare agli sponsor, chi ha sostenuto questo progetto, i frutti del lavoro di riqualificazione degli ultimi mesi realizzato con la collaborazione dell'amministrazione comunale e con la supervisione dell'ingegner Tosti. A questo progetto che è proprio un discorso di aggregazione, non è solo una cosa sportiva perché tanti mi dicono a me del calcio non mi importa niente quindi io non contribuisco. No, non avete capito allora perché per noi non è solo il calcio, prima squadra, Spoleto in eccellenza, motivo d'orgoglio ben venga per carità, però questa è secondaria come cosa, la cosa primaria è questo, è l'impiantistica, ai bambini, ai ragazzini, è poter dare un centro a tutti questi ragazzi che vogliono fare calcio, quindi grazie a voi della fondazione perché siamo partiti con voi Dario, siamo proprio partiti dall'inizio con voi e da lì abbiamo continuato e grazie a voi a tutti quanti loro, chi più chi meno, ma ringrazio tutti quanti, siamo riusciti, noi siamo coloro che guidano questa macchina, ma senza voi che ci date la benzina o il motore, questa macchina è in cammina, parliamoci chiare, parte l'impianto di irrigazione e questo è uno dei fondamentali secondo me come lavoro perché con questo impianto di irrigazione diamo la possibilità di allenarci la prima squadra, quindi l'estate è sempre verde il prato perché viene irrigato e tagliato, quindi abbiamo la possibilità di allenarci la prima squadra, ma non solo, è un campo che adesso omologhiamo, abbiamo messo le panchine laterali perché con l'omologazione ci possono giocare i nostri ragazzini che sono gli esordieti e i giovanissimi, noi contiamo con l'aiuto di tutti quanto prima, speriamo di poterci fare l'impianto di illuminazione, ci potrebbe giocare lo spoleto fino all'eccellenza, bravo Domenico, esatto. Per una comunità è importante ricordare le persone che hanno fatto e hanno dato veramente tanto in maniera gratuita solo per grande passione e una comunità che si rispetti per andare avanti deve ricordare sempre le persone che sono state importanti nel passato, Cesarino è una persona che tutti noi ricordiamo affettivamente, ringrazio Enzo per aver preparato la mozione, noi ne avevamo parlato già da quando avevamo cominciato il progetto di riqualificazione di San Nicolò, questa è un'area che verrà tutta riqualificata, di sotto ci sono i lavori che sono già partiti dall'MTB e ci sarà anche il discorso di questo campo, questa zona intermedia che vorremmo riqualificare per darla all'associazione e a tutti gli abitanti di questo popoloso quartiere perché è importante secondo me per i bambini avere più zone possibili dove giocare liberamente come lo facevamo noi quando eravamo un po' più piccoli. Gli spogliatoi sono stati dichiarati inagibili a seguito del terremoto del 2016 e poi l'amministrazione ha fatto la sua richiesta, ha fatto le sue domande e adesso sono stati finanziati per la ristrutturazione. Anche perché stiamo crescendo come numero di iscrizioni per quanto riguarda i bambini, abbiamo scuola calcio, il settore giovanile che sta crescendo anche di giorno in giorno perché ogni giorno vediamo qualcuno che arriva nuovo e ben venga la cosa, è per loro questa cosa qua. Diciamo la verità, se il giovane Luigino Santirosi al tempo degli allevi avesse avuto un campo insintetico come questo probabilmente sarebbe arrivato in Serie A. No, realmente quest'anno stanno facendo una bella struttura, io stiamo parlando di 55 anni fa, 54 anni fa quando ho giocato qua che era tutto in brecciolina, ogni volta che tornavo a casa la sera tutto un attimo graffiato, mettere la benda, farsi i bagnoli, per me era molto più divertente di adesso però, c'era più soddisfazione giocare prima che adesso, adesso vedo un pochettino i ragazzi purtroppo non avvogliati come eravamo noi, c'era la voglia, l'istrazione adesso, il telefonino, le cose, non hanno più l'attaccamento che avevamo noi da ragazzi, c'era solamente il pallone prima, non è che c'erano altre cose. Che effetto ti fa però rivedere questo impianto così? Bello, bello però, magari ricordi vecchi, ricordi importanti, divertimento tanto e passione tanta. Un gol particolare te lo ricordi? Un rigore qui con una finale... Barato. No, segnato, che ero rigorista pure. Allora, magari fosse stata la ghiaia, in quel periodo, negli anni 70, ci scaricavano la sabbia della fonderia, che qui c'è stata una fonderia molto importante di chisa malleabile, e in mezzo a quella sabbia nera, che era la terra di fonderia, c'erano anche dei pezzettini di scoria e anche di piccole scolature di chisa. E io ho ancora i segni sulla camba. Quindi Bomber Ponziano, veniva attenzionato dai difensori e quando tornava a casa, come tornava? Tutto segnato. Allora, tra i calci e i segni della chisa, perché non c'era solo il breccino, ma c'era anche la chisa, era un massacro, però sempre nella gioia di giocare a calcio. E io da dove abitavo venivo anche in bicicletta. E quanto era a distanza? Sette chilometri, fatti in bicicletta. Quindi due tiri oggi sul sintetico? No, preferisco il breccino d'allora, sì. No, è un altro sport quello del sintetico. Il breccino è un'altra storia. Ma Antonio, senza cappello, chi lo riconosce? Dov'è il sombrero? Allora, il sombrero è appeso a casa. Quello è per le grandi occasioni, come avete visto. Al Bernicchi, quindi è solo per le finali? No, no per le finali. Io lo vorrei mettere tutte le domeniche, però non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Però lo rimetterò. Presto? Presto, con il poncio. Quello è tutto originale. Viene dal Messico quello lì. Ah sì? Sì, sì. Mi l'ha portata mia nipote dal Messico. Sì. E quello porta fortuna, perlomeno. Lo può prestare a bomber cola solo nel caso in cui arriva a quanti gol? 22. A 22? Deve fare 22 gol. E entra in campo col sombrero? Certo, certo. E' meglio il capo tifoso, nel rifinire la porchetta o Alessandro Tommassoni, nel rifinire negli ultimi 16 metri? Esatto, perfetto. Chi è meglio? Beh, lui al rifinire ha lui sul capo. Alberto Del Fratechiere viene subito accontentato da direttore sportivo vincente come pochi a Spoleto. Ha detto qui ci serve un impianto di livello ed è subito arrivato. Beh, devo dire che da Spoletino, oltre che da direttore sportivo, c'è soddisfazione per vedere un impianto che è stato ripristinato lo scorso anno, dopo che per un po' di anni era stato, direi, decisamente abbandonato. Quindi è un piacere di vedere giocare al calcio anche i bambini, quelli più piccoli, perché qui per anni è stato un feudo dello Spoleto e tra l'altro anch'io ci ho vissuto la mia adolescenza e quindi l'esperienza di tante partite. Per cui sono contento di questo, sono contento che finalmente lo Spoleto ha un campo di allenamento perché per anni abbiamo sofferto questa mancanza e tra l'altro anche gli anni più belli della Serie D avevamo sempre difficoltà ad organizzare gli allenamenti perché nei periodi invernali, soprattutto lo stadio, era praticamente inaccessibile, quindi dovevamo adattarci un po' sui campi al Flaminio o ad altre strutture. E' proprio su questo, senti, perché nella storia recente dello Spoleto c'è impressa la tua firma, no? Che cosa significa questa ripartenza per l'S di Spoleto? Partiti dalla prima squadra che ha trovato subito l'eccellenza, adesso però si sta lavorando soprattutto sotto. Allora, chiaro che dietro alla prima squadra c'è una Junior S che è stata ripristinata quest'anno, c'è un settore giovanile che sta nascendo sotto i migliori ospici e quindi insomma ci sono tante iniziative che col tempo credo che miglioreranno sicuramente. Per cui Spoleto non è solo prima squadra, Spoleto è tanto altro, tutta questa gente che è venuta era presente stasera e quindi che ringraziamo perché sono probabilmente quelli più importanti, gli sponsor, e quindi da questo punto di vista la loro presenza è stata sicuramente un privilegio. Quindi siamo contenti della situazione che si è creata, della positività che c'è in città, dell'ambiente calcistico che è stato ripristinato in maniera direi ambiziosa e soprattutto ineccepibile e quindi speriamo di continuare questo percorso che abbiamo intrapreso l'anno scorso con la consapevolezza che si può ancora migliorare, ma con la consapevolezza che sicuramente insomma abbiamo delle radici ben sane che possono garantire un futuro a questa squadra.